mi raccomando se volete fare copy trading guardatevi anche i tutorial che trovate in descrizione e comunque scegliete tra i trader conservativi ovvero quelli che hanno un punteggio da 1 a 3 diciamo che se volete per non addormentarvi scegliete uno che ha punteggio di rischio 3 se volete addormentarvi nel senso volete proprio non correre proprio nel minore numero di rischi possibile scegliete un trader che ha come volume di rischio come punteggio dato alla piattaforma praticamente punteggio di rischio 1 però questo per esempio negli ultimi 180 questo ve lo segnalo questo benham sein negli ultimi non so che ha combinato oppure essendo punteggio di rischio 3 ha fatto il 519 per cento negli ultimi 180 giorni allora andiamo a vedere tutte le sue operazioni eccolo qua storico delle operazioni potete controllare tutto e vedete che ha operato su principalmente bitcoin ed ethereum e ha fatto belle belle percentuali poi potete ecco anche esaminare tutte le operazioni e controllare che quando le operazioni sono in rosso ovvero quando lui ha chiuso in perdita non ha chiuso con percentuali più alte del 20-30% se ha operazioni che ha chiuso meno 65 meno 80 meno 100% statene alla larga questo mi sembra davvero interessante ecco dovete avere la pazienza di controllarle tutte però se siete nuovi potreste sfruttare il bonus quindi primo link in descrizione vi registrate col secondo fate il deposito e poi se volete fare trading anche oppure semplicemente fate il deposito quindi 50 USDT ne avete altri 50 totale sono 100 USDT che poi potete venire qui su copy trading e darli a questo trader che vi ho anche individuato perché da quanto pare quando ha perso solo 3 operazioni fino adesso comunque voi spulciatevelo tutto ma sembra interessante si chiama andate su guardate quante operazioni sembra veramente imbattibile il Menem Signedin mi raccomando ovviamente non sono consigli finanziari con il copy trading si bellissimo trovare un trader punteggio tra 1 e 3 tutte le precazioni del caso però si possono perdere soldi quindi fate le vostre dovute ricerche non sono consigli finanziari ragionate con la vostra attenzia consapevoli se volete provare comunque 50 USDT li depositate ne avete 50 bonus fino al 28 febbraio per i nuovi utenti e in più se fate 20.000 USDT di volume avete altri 50 bonus e se fate 50.000 ulteriori USDT di volume ne avete altri 50 50 e in un totale di 150 USDT però i 50 io vi consiglio quelli del deposito prendeteli vi registrate link in descrizione depositate 50 e ne avete 50 con 100 magari fate copy trading con Benjamin Insiding vi ho dato anche una strategia iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video noi ci vediamo ad un prossimo video ciao